1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 5 5 5 6 6 5 6 6 7 8 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 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 16 16 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.